Una confusione molto più grande probabilmente di quella presunta che secondo alcuni potrebbe generare nella testa dei bambini e dei ragazzi sul tema dell'identità sessuale. Un tema di carattere nazionale, quello delle teorie gender nelle scuole, che anche in Puglia ha sollevato diverse polemiche con molte associazioni che hanno interpretato un articolo della riforma della buona scuola del governo Renzi, in cui si parla della promozione delle pari opportunità tra i sessi, come una possibile apertura all'insegnamento delle teorie di genere e all'educazione sessuale. Il tema sarà anche al centro di un incontro che si terrà lunedì prossimo nella scuola Soffo di Monopoli, patrocinato anche dal Comune, dal titolo difficilmente equivocabile di Gender Distruzione. Confusione alla quale il consigliere del Movimento 5 Stelle Gianluca Bozzetti, vicepresidente della Commissione Cultura e Istruzione, chiede di porre rimedio attraverso un pronunciamento ufficiale da parte della Regione Puglia, anche per evitare pericolose derive omofobiche. Purtroppo la disinformazione è dilagante da questo punto di vista. Un articolo della legge della buona scuola parla chiaro, non parla assolutamente di teoria gender, ma parla appunto di eguaglianze e di rispetto della sessualità. Insegnare agli studenti e alle nuove generazioni il rispetto della sessualità in tutte le sue parti. Per questo noi abbiamo chiesto alla Regione di fare chiarezza attraverso una circolare riferita a tutti gli enti locali, per dissipare ogni dubbio sulla questione.